buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti a inneschiamo comunità il podcast di casa inneschi che parla di podcast nello specifico cercheremo di indagare su cosa sia questo strumento di comunicazione quali sono le possibili applicazioni e perché utilizzarlo per animare il territorio e creare comunità io sono alessandro e quello che vedete alle mie spalle e l'ex dinamitificio nobel teatro di quello che sarà un ciclo di podcast che prevede quattro puntate ogni puntata ha un tema specifico e oggi in questa quarta e ultima puntata purtroppo di inneschiamo comunità parleremo di inclusione come il concetto di inclusione può essere affrontato attraverso lo strumento podcast ne parliamo oggi con barbara pipia e antonella chiambo responsabili del progetto di inclusione di cui ci parleranno nonché registe e speaker del programma radiofonico sì come no da anni ormai all'interno del palinsesto di radio home che è una web radio molto famosa nel torinese che non credo abbia bisogno di presentazioni ciao antonella ciao barbara ciao ciao grazie dell'invito grazie mille grazie a voi di averlo accettato intanto come state molto bene meno male meno male un'altra domanda che faccio di solito di diritto oltre a come state e da dove ci rispondete visto che abbiamo la possibilità di viaggiare virtualmente da che città ci state rispondendo allora io vorrei poterti dire al mare su una spiaggia in realtà sono nell'ufficio all'interno di di una delle comunità che gestisco ambito disabili perché sono appunto direttore di comunità socialitaria e quindi ad avigliana ci sono i laghi non è il mare ma va bene lo stesso dai io invece direttamente sotto la sacra sono a sant'ambrogio e sono nell'ufficio dell'associazione e ho il panorama proprio della sacra diciamo che insomma non è male anche se non è proprio il mare beh 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 direi direi niente male niente male bene quindi questa in realtà è la puntata più in casa perché anche noi siamo all'ex dinamitificio quindi siamo siamo sempre più o meno in zona perfetto quindi abbiamo un po raccontato già nell'intro perché oggi stiamo ascoltando antonella e barbara raccontateci quindi con la prima domanda la genesi come è nata questa vostra trasmissione si come no allora se anto sei d'accordo posso iniziare io allora è un progetto è un percorso proprio un cammino che abbiamo fatto un gruppo di persone che abbiamo intrapreso appunto quasi cinque anni fa contattando radio home che è un'associazione già esistente allora non era ancora un'associazione è una web radio che è nata proprio per gestire le trasmissioni comunque di natura sociale quindi un po l'obiettivo di dar voce anche noi volevamo dar voce a tutti gli utenti che seguivamo quindi abbiamo proprio bussato a pieri loro sono di pieri era di home a loro uffici dicendo ma anche noi della valle di susa adesso val di susa val di sangone vorremmo fare una cosa simile per i nostri ragazzi e quindi poi loro hanno aperto hanno aperto questa porta ideale diciamo ci ha detto matti va benissimo vi giudiamo il progetto e quindi poi fatelo un vostro perché poi comunque naturalmente l'abbiamo reso calzante sulle esigenze dei dei nostri utenti dei nostri ragazzi e l'acqua una delle anche delle altre cose belle secondo me che ha portato a far funzionare un progetto trasversale a tanti servizi è stata comunque una collaborazione molto costruttiva tra tutte le persone vabbè io e Antonella nello specifico ci occupavamo proprio anche del coordinamento già da subito quindi sono un po di anni e c'è una bella sinergia tra queste realtà e secondo me è un po il presupposto perché questo progetto poi potesse andare avanti. Anto se vuoi io racconto l'aneddoto più meno serio mi ricordo bene quando durante una festa delle associazioni credo il 2011 barbara sì 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 2011 abbiamo organizzato questa perché io e barbara siamo sempre quelle che più o meno ci incontriamo e ci diciamo ma dai guarda che bella cosa la facciamo ok facciamo e va sempre un posto e e quindi durante questa festa delle associazioni che avevamo organizzato insieme ad Avigliana a un certo punto barbara dice ma sai c'è questa bella idea abbiamo invitato la radio andiamo a parlarci quindi poi è venuto tutto quello che ha raccontato barbara ma prima c'è sempre il lampo di genio che spesso arriva da lei su queste cose molto molto belle molto coinvolgenti al di là poi delle istituzioni perché ci sono tantissime cose per i ragazzi con disabilità istituzionali però è bello che abbiano anche degli spazi un po più liberi un po più sciolti dove possono fare delle cose normali tra virgolette diciamo. Poi la radio è un mezzo potente in cui far sentire la propria voce la propria idea e dire un po' io esisto ascoltatemi insomma è una cosa un messaggio molto potente certo e aiuta anche i ragazzi che magari hanno più difficoltà sono un po più timidi in radio nessuno ti vede quindi non è la percezione di di avere qualcuno dall'altra parte quindi sono molto più spontanei certo certo beh poi ne parlavamo anche la scorsa puntata che il podcast la radio la comunicazione attraverso la voce sta ritornando anche sempre di più no quindi questo mezzo di comunicazione che con pochi mezzi uno può dare voce a chi non ce l'aveva prima e questo è questo è molto importante ecco e da quella festa lì arriviamo al primo marzo 2017 giusto in cui è andata in onda la prima puntata raccontatemi un po' come è andata per rinfrescarmi sono andata sul podcast non so se l'hai fatta anche tu Anto anche perché ho detto magari la prima volta sì sono un po' di anni fa un'emozione pazzesca tra l'altro ho scoperto che la speaker una delle speaker ero io ma forse eravamo più emozionati noi operatori che ci abbiamo provato in tutti i modi ma i ragazzi sono sempre stati molto spontanei felicissimi di di poter essere protagonisti di un momento loro e poi il titolo di quella puntata era un posto speciale no perché la musichetta anche la sigla è proprio esiste un posto speciale io non penso per carità ma no male che l'hai cantata tu Barbara credo di non azzeccare le note neanche proprio il del campanello mi si stona pure il cala quando ci torna il campanello e quindi comunque l'idea era proprio che fosse un posto speciale in cui presentarsi infatti tutti loro sono presentati con una spontaneità passetta decisamente meno alta la prestazione di noi ed è stato effettivamente un bel ricordo dei momenti sì diciamo che la strada per arrivare al primo marzo è stata stricata da duri momenti di formazione perché una parte molto importante per noi è stata appunto quella della formazione nessuno di noi arriva da una situazione radiofonica quindi non avevamo parte forse Deborah che era una nostra collega che aveva già avuto esperienze ma non solo rispetto alla tutta la parte di strumentazione quindi come usarla come gestirla ma neanche rispetto al fatto di come costruire una puntata cioè cosa si fa come si gestisce quali sono gli spazi da lasciare alla musica piuttosto che al parlato e tutte queste cose qua quindi credo che questa formazione pur essendoci servita ci ha messo ancora più ansia perché ci sembrava di dover fare tante cose che non sapevamo se poi saremo riusciti a fare e quindi sì quindi siamo arrivati alla prima puntata penso molto carichi di questa ansia da prestazione che poi è un po' spanita anche da subito no perché poi abbiamo visto che fare come sempre è più semplice di quello che è di imparare e quindi tanta emozione siamo stati anche fortunati perché abbiamo avuto subito un ospite molto bravo che ha saputo parlare molto bene quindi ci ha aiutato anche in questo non abbiamo fatto fatica ecco a farlo esprimere e ha coinvolto tutti i ragazzi è stato molto bravo anche in questo nel coinvolgere proprio anche gli altri a parlare e a dire la loro e poi c'era l'emozione grande della sigla perché la sigla è stata scritta apposta per noi da una cantante e quindi era anche il fatto di avere questo intro così importante è stato proprio un bel momento diciamo il podcast o la web radio uno dice vabbè prendi un microfono lo accendi ci parli e poi una volta che sei lì con il microfono lo accendi ma allora per assurdo quello nel nostro caso è il problema minore anzi il contrario perché tu ad esempio sai meglio di noi perché insomma che sicuramente più bravo quanto sia difficile gestire degli degli ospiti lì noi siamo 30 40 persone che vogliono dire qualsiasi cosa è la cosa bella che magari si parla che ne so di vacanze uno alza la mano e ti aspetti e lui dice voglio salutare mia sorella perché ieri sono andata dal parrucchie cose che non c'entra niente ma sono fatte così bene con una spontaneità così che poi sta un po a chi gestisce a costare a ecco perché insomma a riportare sul però in realtà è la la spontaneità e la secondo me la la differenza la parte la cosa in più insomma che noi cerchiamo sempre di non di non annientare anzi cerchiamo di evidenziare insomma qual è stato l'apporto che i ragazzi e le ragazze hanno dato al vostro podcast al vostro progetto avevano delle rubriche che tenevano oppure appunto era tutto basato come dicevate sulla spontaneità noi abbiamo iniziato senza troppe aspettative e inizialmente eravamo anche noi che davamo un po i temi ai ragazzi per dare un filo comune alla trasmissione ma nel corso poi dell'esperienza che ci siamo fatti proprio durante le trasmissioni abbiamo capito che in realtà è meglio che se li decidano loro i temi perché almeno sono spontanei e sono cose di cui loro hanno voglia di parlare quindi col tempo ci siamo proprio organizzati di modo che la settimana in cui non facciamo la trasmissione non andiamo in diretta ci riuniamo comunque e loro si scelgono le canzoni che vogliono trasmettere i temi di cui vogliono parlare è tutta una serie di cose che vogliono dire che però partono proprio da loro ovviamente c'è sempre anche un operatore che un po li ti guida per aiutarli e poi all'interno della della trasmissione invece ci sono proprio dei momenti che abbiamo individuato perché alcune persone avevano proprio piacere di dire proprio quello infatti abbiamo la rubrica dei sogni il cassetto dei sogni di martina che è una ragazza che partecipa alla radio e ha questo librone dove scrive tutti i sogni dei nostri ospiti quindi la domanda di rito all'interno di ogni trasmissione che lei fa all'ospite qual è il tuo sogno nel cassetto e poi lei lo trascrive questa è una cosa a cui lei tiene moltissimo e poi ci sono altre rubriche ma ad esempio c'è il guglielmo che ci dice accadde oggi e quindi ci racconta proprio si informa e cerca insomma le curiosità le cose un po più particolari e non oppure c'è chi magari propone della musica e che ha un po questo obiettivo a questi interessi qua quindi propone le musiche ecco su quello forse è stata l'unica cosa qui siamo tutto c'è sicuramente siamo intervenuti noi perché tenderebbero a scegliere della musica un po un po così un po diciamo un po naif un po vintage ma non lo so ma roba proprio insentibili niente perché se dovessi dire adesso qualche nome forse troppo però magari vogliamo farci sentire da ragazzi giovani anche se no finisce che vabbè cambiamo quello forse è stato l'unica cosa i gusti musicali però insomma per il resto cerchiamo di seguire abbastanza le loro diciamo che effettivamente in tutto per tutto come diceva anzonella prima essendoci tutta quella parte di redazione è tutto frutto del loro pensiero dei loro desideri anche degli argomenti di cui hanno proprio piace hanno parlato anche di argomenti importanti come il bullismo cioè non è soltanto la vacanza piuttosto che l'uovo di pasqua eccetera c'erano anche argomenti che erano comunque da sviscerare e quindi poi veniva anche fuori una bella condivisione certo tra l'altro i primi tempi c'era anche un gruppo di alunni di casa di carità quindi erano adolescenti ed era niente male l'incontro tra persone con della disabilità e gli adolescenti di un quarto di formazione quindi molto interessante ci sono stati veramente dei bei contenuti bello bello allora bisogna andare ad ascoltarlo assolutamente poi dopo vi chiedo come come farlo ma una domanda che adesso mi è sorta così come mai sì come no perché sentiamo le voci ci pareva brutto bravissimo ma era come dire sì come no vabbè cioè pure la radio facciamo era una roba del genere cerchiamo sempre di essere ma anche i ragazzi e devo dire comunque hanno una capacità di autorionia e di buttarla sul ridere che non è da tutti e infatti una delle cose belle di quella trasmissione lì e che forse ti fa veramente capire quante risorse possa avere una persona magari tu non te l'aspetti in realtà sono belle sorprese c'è anche la capacità di essere autoeronici o di ridere in un momento in cui comunque tu hai un microfono davanti e che potrebbe appunto metterti un po' di ansia no in realtà diciamo che in questo c'è proprio anche l'abilità degli speaker di cogliere il momento perché il fatto di avere persone che possono dire da qualunque proprio in qualsiasi momento vuole anche dire però saper cogliere la persona che vuole parlare alle volte loro non hanno la capacità di dire voglio dire una cosa però li vedi che hanno voglia di dire quindi il lavoro proprio dello speaker è quello di andare a cogliere quelli che vorrebbero dire qualcosa senza però avere quella forza di buttarsi certo non è solo essere non è solo essere speaker no no è grande sensibilità e è quello di trasformare poi magari la banalità di quello che dice il ragazzo capendo che non è una banalità ma in quel momento per una cosa importante quindi dare proprio l'importanza a qualsiasi cosa dicano certo ma questo secondo me darebbe una grande lezione anche a un sacco di programmi podcast di quelli ufficiali secondo me grazie grazie ci proviamo dai e se dite in tutto questo percorso c'è un episodio che vi ha fatto veramente sganasciare delle lisate che vi ha fatto ridere tantissimo ma un episodio in particolare non me lo ricordo però noi abbiamo un personaggio che si chiama ivano e che è spettacolare perché lui ha proprio è proprio un comico e ha la capacità di tirare fuori la battuta giusta al momento giusto e farci veramente ridere 0 e quindi ci sono tanti episodi che freddure è proprio quelli che ti lasciano di ghiaccio e poi devi ridere così per forza no ma ti viene proprio sì io anche sono d'accordo con altro che dovessi individuare proprio un momento magari se mi mettessi a riascoltare tutte le trasmissioni qualcosa mi verrebbe in mente ma la cosa bella è che che può essere destabilizzante noi facciamo tutto un lavoro di redazione scriviamo in grande tutta la scaletta eccetera poi dopo di che ci sono i ragazzi che si preparano delle delle parti eccetera poi magari gli passi il microfono convinta che lui di quella parte lì e loro stravolgono con completamente tutta la trasmissione perché poi cambiando argomento tu li segui ma per forza ma non perché ci siano indicazioni dalla radio assolutamente tanto meno nostre e proprio perché è bello così cioè alla fine sono loro i registi di tutto quello che viene detto quindi forse la ti fai un sacco di risate e li segui quindi una imprecisa come dice anton anche a me non viene in mente ma ce ne sono molte la bellezza della spontaneità dell'improvvisazione è sempre quella è innata poi è innata adesso le trasmissioni purtroppo leggevo anche sui vostri social sono state interrotte a causa della della pandemia però so che vi siete inventati qualcosa per rimanere comunque in contatto con con i ragazzi e le ragazze che cosa avete pensato sì credo che per tutta la durata della pandemia quindi da marzo dello scorso anno abbiamo sempre mantenuto il mercoledì pomeriggio come momento di incontro ovviamente non più dal vivo ma su skype abbiamo fatto il gruppo della radio con skype e abbiamo continuato incontrarci per semplicemente per vederci intanto per sapere come come stavano i ragazzi cosa stavano facendo e per ascoltare musica insieme non abbiamo fatto chissà che progetto però era proprio l'esigenza di con di avere un qualcosa che che continuasse per non perderli nel frattempo devo dire che ha funzionato molto bene e loro non hanno mai smesso di chiederci quando ricominciamo perché questa è sempre stata la domanda credo di qualsiasi trasmissione finalmente adesso possiamo dire ce la possiamo fare adesso state ricominciando infatti sì ci stiamo dovremmo riuscire non come prima perché ancora abbiamo le normative covid che ci impediscono come dicevamo prima questa la peculiarità la caratteristica di questa trasmissione che utenti servizi trasversali operatori di servizi trasversali e realtà ed enti differenti si trovano insieme beh questa roba non è possibile perché non possiamo intrusciare i vari servizi quindi faremo abbiamo abbiamo una serie di stamotage ad attuare infatti ieri c'eravamo appunto anche io e Antonella che cercavamo di capire come fare eccetera però dovremmo fare qualcuno in magari indifferita qualcun altro in presenza con quel altro fare intervista insomma noi vogliamo ricominciare i ragazzi hanno sempre rispetto di continuare lo vogliono sicuro che lo so proprio beh questo è vuol dire che ha funzionato che stanno andando bene bene e quindi ora è d'obbligo questa domanda qual è secondo voi la forza di questo mezzo di comunicazione visto che noi parliamo anche di di podcast in questo ciclo di podcast qui il nostro obiettivo è quello di parlare di podcast in varie declinazioni oggi parliamo di inclusione ma secondo voi in generale qual è la forza di di questo mezzo di comunicazione appunto ma guarda posso iniziare io poi Antonella sicuramente completerà la risposta quello che posso dire è che bene o male anche solo il telefonino ce l'hanno quasi tutti e quindi un accesso internet quindi grazie a questo questo progetto come per altri insomma riusciamo a raggiungere anche quel ragazzo che magari abita un po lontano eccetera che farebbe comunque fatica a fare in gruppo eccetera quindi noi puntiamo sempre all'inclusione sociale alla condivisione come ti dicevo e al fatto che possano partecipare non solo fisicamente che già vuol dire o comunque ma partecipare anche solo a livello proprio di di voce di pensiero e questo è un potente mezzo secondo me di comunicazione naturalmente e quindi è una bella risorsa insomma chiunque in qualsiasi momento può dire la tua raccontare anche solo quello che è successo insomma quindi certo io penso anche un'altra cosa nel senso che essendo la radio un mezzo in cui non ti vedi il fatto di trovarci in in una situazione in cui chi ascolta non non sa chi è chi sta parlando mi sono un po impappinata ma mi spiego in questo senso no chiunque chiunque ascolti non sa che i ragazzi che partecipano alla trasmissione sono ragazzi disabili o con delle difficoltà e quindi è proprio il fatto di esprimersi senza che gli abbia gli altri che ci ascoltano abbiano dei pregiudizi e secondo me questo è anche molto bello perché poi è chiaro che magari ascoltando determinate ragazzi mentre parlano si può anche capire però l'ascolto è senza pregiudizio perché io non ti vedo non so quali sono le tue caratteristiche quindi ascolto quello che hai da dire ed è un modo anche per loro di sentirsi tranquilli forse nell'esprimersi e nel dire quello che pensano senza preoccuparsi di cosa pensa che ti ascolta certo certo assolutamente assolutamente bene il tempo purtroppo a nostra disposizione è terminato vi faccio l'ultima domanda perché vogliamo assolutamente andare ad ascoltare tutto questo tutto quello che ci avete raccontato dove possiamo ascoltarvi come possiamo fare a rimanere aggiornati anche sulle sulle vostre attività allora tutte le nostre puntate sono pubblicate su radio home il sito www.radio.it e nella sezione riascolta dovete cercare siccome no e trovate tutte le nostre puntate poi noi abbiamo una bellissima pagina facebook dove trovate anche dei video delle trasmissioni perché abbiamo un ragazzo che si occupa della parte di facebook e si preoccupa di filmare quando andiamo in diretta e comunque di dare le comunicazioni e quindi potete trovare gli aggiornamenti anche sulla pagina facebook siccome no radio home esatto i video sono abbastanza improponibili e quindi magari tutti storti però è il bello ci caratterizza anche poi per i miei teretani così che spuntano però va bene va benissimo così bello bello così spontaneo spontaneo poi diciamo che si guarda non solo l'aspetto la classica ripresa come un po alternativa siamo tutti alternativi sperimentazione perché non riuscire andare di nuovo in diretta allora su radio home i mercoledì ogni 15 giorni dalle 15 alle 16 ok allora andiamo tutti ad ascoltare sì come no io ringrazio antrella ringrazio barbara per essere stata qui con noi grazie a te niente bocca al lupo per tutto per il vostro programma un grande saluto ai vostri ragazzi grazie 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 mille vive il lupo ciao 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 bene come vi dicevo prima questa era l'ultima puntata di questo ciclo di podcast e quindi prima di salutarvi vorrei ringraziare come sempre emiliano che mi ha assistito in regia e infine i promotori di questo progetto di case inneschi cioè il comune di avigliana la cooperativa kiwi l'associazione the school of losing time e la cooperativa orso ciao a tutti